Oristano, il parco macchine della ditta Formula Ambiente, gestore del servizio di igiene urbana, si arricchisce di due aspiratrici. Glaton è destinata alla pulizia degli spazi pubblici e sarà destinata in particolare alle piazze del centro storico. Fissiamo un altro tassello dell'appalto, dichiara l'assessore all'ambiente Gianfranco Liccheri. Sono macchine che daranno un supporto importante al servizio di spazzamento che tutti i giorni eseguiamo manualmente in piazza Roma e piazza Leonora. La ditta Formula Ambiente aveva inserito l'acquisto delle due aspiratrici Glaton nelle offerte migliorative della gara d'appalto. Sono macchine di ultima generazione 100% elettriche. Saranno ricaricate in una colonnina apposita che si trova all'interno del parcheggio comunale, spiega l'assessore Liccheri. L'apparecchio è di facile utilizzo, compatto, consente di pulire spazi angusti e spesso inarrivabili, facendo guadagnare tempo prezioso agli operatori, particolarmente adatti ai centri storici, anche perché Glaton è estremamente silenzioso, oltre che rispettoso dell'ambiente, dal momento che non emette CO2 nell'atmosfera. Sono macchine che consentono una pulizia più adeguata e hanno convinto i nostri tecnici, conclude Liccheri. Sono già in uso in altre importanti realtà italiane e siamo convinti che anche la nostra città ne trarrà giovamento.